posate multiuso tascabili custodia in cordura con aggancio per cinturone chiudibile a velcro le posate al suo interno si sfilano sono incastrate qui abbiamo un cucchiaio e la forchettina di piccole dimensioni ma efficace il coltello molto interessante è un bel coltello perché ha una notevole dimensione e si blocca tramite questo aggancio qui per cui anche questo anti ritorno e sicurezza poi troviamo il classico apri bottiglie per sugheri e similari corpo in polimero fissate dai rivetti metallici acciaio inox volendo c'è la possibilità di utilizzarla anche in questa maniera incastrare alla rovescio la posata sia la forchetta che l'eventuale cucchiaio